I podcast di Angela Cialone, per essere sempre aggiornati su Fisco e Lavoro. La contabilizzazione dei contributi a fondo perduto. Per indennizzare le imprese dai negativi effetti della pandemia da Covid, che ormai imperversa da più di un anno, vi sono i contributi a fondo perduto, che sin dal primo decreto, il numero 34 del 2020, che noi chiamiamo decreto rilancio, sono stati previsti ed erogati con l'intento di integrare il calo di fatturato subito dalle imprese. Successivamente sono intervenuti anche il decreto agosto, precisamente il decreto 104 del 2020, e il decreto ristori, il decreto legge 137 del 2020. Da ultimo, lo sappiamo benissimo, il decreto sostegni, il decreto legge 41 del 2021. I contributi a fondo perduto, a prescindere dalla valutazione in ordine ai requisiti soggettivi e oggettivi di ammissione poi alla fruizione di questo contributo, secondo i principi contabili, rappresentano dei contributi in conto esercizio, in quanto hanno l'evidente funzione di integrare i ricavi dell'attività, caratteristica questa venuta meno per lo scoppio della pandemia in generale, nonché per la chiusura temporanea dell'attività conseguente ai lunghi lockdown. Si pensi solo alle palestre, ai cinema. I contributi in conto esercizio si iscrivono in bilancio quando si ha la certezza del diritto a percepirli, anche se è sorto in un esercizio successivo a quello al quale si riferiscono. Nel corso dell'esercizio 2020 i contributi sono stati sia richiesti che tutti erogati, pertanto non sostistono proprio dei dubbi sulla loro collocazione nel bilancio fino al 31 dicembre 2020. Si tratta di contributi volti a integrare i ricavi nell'esercizio 2020 e quindi si ha diritto alla percezione in cui è sorto il credito. Le rilevazioni contabili alla data di maturazione e di incasso saranno quelle riferite all'articolo 2425 del Codice Civile che li colloca tra i contributi in conto esercizio e che vengano indicati separatamente ed evidenziati nella voce A5 del conto economico. Il contributo a fondo perduto non è imponibile ai fini delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui è l'articolo 61 del testo unico delle imposte sui redditi, la cosiddetta prorata deducibilità degli interessi passivi. Di quelli ancora dell'articolo 109,5 sempre prorata di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi e non contribuisce a determinare il valore della produzione ai fini IRAP. Stante questa non imponibilità nei modelli dichiarativi bisognerà rilevare questa variazione in diminuzione. Noi sappiamo che il contributo a fondo perduto previsto dal decreto sostegni a differenza di tutti gli altri precedenti può essere convertito in un credito d'imposta utilizzabile in compensazione. Questa scelta, la scelta della compensazione, deve riguardare l'intero importo di cui si ha diritto. Il credito d'imposta rappresentato dal contributo a fondo perduto dal decreto sostegni non è soggetto al divieto di compensazione in presenza di ruoli erariali scaduti per un importo superiore a 1.500 euro. Io qui faccio riferimento al decreto legge 78 del 2010, l'articolo 31,1. Questo credito d'imposta non contribuisce al superamento dell'ammontare annuo massimo le famose 700.000 euro delle compensazioni di cui qui mi riferisco alla legge numero 388 del 2000, l'articolo 34. Ancora, questo credito d'imposta non subisce il limite di 250.000 euro relativi ai crediti di imposta che vanno indicati nel quadro RU del modello dichiarativo. Non può essere inoltre oggetto di cessione. A differenza di tutti quegli altri bonus covid che noi conosciamo, quelle delle locazioni, quelle delle spese di sanificazione, nel caso in cui si scelga che il contributo a fondo perduto sia sotto forma di credito d'imposta, le rilevazioni contabili al momento della maturazione e in occasione dell'utilizzo in compensazione saranno sempre il conto A5, contributi in conto esercizi non imponibile e il conto C secondo 5 bis, crediti d'imposta per contributo a fondo perduto. Rispetto al contributo del decreto legge sostegni occorre ancora precisare che il diritto alla percezione ovvero all'utilizzo in compensazione qualora il beneficiario avesse scelto il credito sorge nell'anno 2021. Quindi secondo il principio contabile la contabilizzazione deve avvenire nell'anno 21. Se ti è piaciuto questo podcast iscriviti al canale per stare sempre aggiornato su fisco e lavoro. Hai domande, curiosità, argomenti da suggerire? Scrivimi al commento sotto questo podcast. A presto!